ciao e benvenuti in un nuovo video allora stavo registrando un video precedente che sicuramente avrete già visto quando è arrivato a corriere con questa box quella di ed è my beauty box per il mese di marzo allora solitamente non registro mai video nello stesso giorno anche perché tendo se no a ripetermi o ad avere delle aspettative perché ne ho già aperto uno e quindi ecco però ho detto dai è proprio appena appena aperta l'ho solo tolto l'involucro esterno è ancora chiusa qui quindi a questo punto l'apriamo insieme ed vediamo subito che cosa contiene allora questa è quella di marzo questa è solo la confezione esterna marzo 2024 ha un prezzo che varia ma l'abbonamento con il più conveniente secondo me è quell'annuale da 15 euro a box con tutto potete sospendere ed è disattivare quando ed è sospendere può disattivare alla scadenza e oltretutto 10 per cento di sconto sul vostro primo acquisto con il codice come sempre insieme sotto impressione comunque sia nell'info box andiamo ad aprirla e scopriamo cosa contiene quindi la apriamo proprio adesso ok facciamo così ok e vediamo allora mentre apriamo mi è uscito il foglietto illustrativo come sempre che però ho imparato che ha lo spoiler quindi per adesso lo spoiler non ce lo facciamo e andiamo a vedere a partiamo da sinistra e andiamo a destra ok allora catrice instant matte stick o uno stick che è riducente mattificante full size ovviamente da 6 grammi il valore non sarà alto però è uno stick a quanto pare che va bene come primer oppure da riapplicare durante il giorno però ovviamente non sopra il makeup ok magari anche solamente nelle zone più problematiche del viso interessante andiamo a vederlo fatto così il colore assolutamente da provare allora io vi dico con la mia pelle mista tenete al grasso ecco magari si tornasse anche giù ha avuto qualche problema questo stick comunque sia va benissimo allora cerchiamo il c'era benissimo perché lo uso solo io ovviamente quindi cerchiamo il prezzo che di 6 euro ok e noi andiamo avanti con intanto metto qui e andiamo avanti con il continuo andiamo avanti sempre da sinistra destra skin enco roma allora l'ho già trovata in qualche altra box forse sempre loro vripped cleansing cream crema detergente vaporosa al tartufo crema detergente vaporosa 100 ml quindi un full size cercavo di leggere se c'è qualcosa gently skin massed circular per 60 secondi dovrebbe massaggiare per 60 secondi sul viso anche per struccare e poi dopo ed è andare a rimuovere con la salvietta allora se riuscissi ad aprirlo perché vuole sentire questo profumo di tartufo ma non riesco ad aprirlo quindi vado a scardinarlo un attimo magari off camera e guardate che cosa ci riesco ci riesco ci riesco ci riesco però proviamo la crema ecco adesso ho anche lo struccante sulla mano cioè io sapete che questi video sono così ma perfetto allora intanto il prezzo questo è skin enco 27 euro perché è un full size ok poi andiamo avanti con questo campione gratuito ok allora sauber pharma system life unghie e cappelli integratore alimentare per salute di bellezza e bellezza unghie e cappelli contiene zinco rame selenio e biolina biotina amminoacidi ed estate vegetali senza glutine senza l'attoio sono 30 compresse allora trovo che siano molto validi in questo periodo ma io non amo questo periodo sicuramente può andare non ho mai sentito questo marchio però troviamo che biotina rame selenio e zinco effettivamente sono sono a livelli alti quindi perché no scadenza settembre 2024 siamo a marzo quindi da prendere subito ok valore 12 euro ok e noi andiamo avanti e andiamo avanti con questo che è fisica formula ok adesso lo apriamo è un burro pressato polvere di burro pressato illuminante ok proviamo un po allora è un full size ovviamente dice che è una novità noi andiamo ad aprirla a un valore di 11 euro allora la confezione è bella bella nel senso che è talmente difficile aprirla che è impossibile rischiare che si rompa cerchiamo di aprirlo proprio la quantità intanto che lo apro è un 7,5 grammi eccolo qui è molto carino non so se c'è in diversi colori faccio vedere questo che è translucent glow e andiamo a provarlo ma che bellino è molto delicato è una texture marmorizzata si dice che presi assieme molto molto delicato ok ok e andiamo avanti con l'ultimo prodotto ah scusatemi physician ve l'ho detto che era 11 euro ok andiamo con l'ultimo prodotto che non so assolutamente che cosa sia non l'ho mai visto ma devo vedere assolutamente ed è invisibubble e già mi piace multi band due in uno quando capirò che cos'è intanto vi dico che su un valore di 6 euro a forse ho visto dall'immagine perché se no non capivo andrebbe essere un fascia per capelli con anche la parte che si chiude nella coda andiamo a capire come funziona potrebbe essere una genialata come una cavolata ok qui c'è la parte solita dell'invisibubble e poi qui è la fascia a questo punto come funziona noi andiamo a seguire le istruzioni le istruzioni dicono che va messo dietro al collo in questo modo non scivola proviamo e ha la cosa furba è che ha questa partina gommata quindi dovrebbe rimanere fermo allora andiamo a provarla andiamo a provarla e vi dico un pochetto scivola sinceramente però a differenza di altre non dovrebbe strappare i capelli se no l'altra alternativa è fare la coda e noi andiamo a fare la coda ok e poi a questo punto non ho capito niente andiamo a fare la coda ok così e l'abbiamo fatta e così i capelli sono fermi e poi dovremmo fermarla perché alla modella viene e a me no ma comunque la studieremo la studieremo perché è carina come idea e questo abbiamo detto che è 6 euro ok allora recap veloce veloce di tutto quanto abbiamo questo dell'invisibubble poi abbiamo l'illuminante di physician formula sposto questo lo struccante al tartufo di skin and co roma in full size il mattificante per il viso di catrice piace perché è molto make up e l'integratore che sapete che non amo però comunque sia è interessante e se qualcuno lo sta cercando allora abbiamo detto che la box costa 15 euro ho fatto un attimino i conti off camera e ha un valore di circa 62 euro quindi ci sta assolutamente poi cose che provo sicuramente quindi come sempre perfetto a questo punto andiamo a questo punto andiamo a questo punto andiamo a vedere anche spoiler a catrice potevamo trovare il correttore anti rossori oppure l'instant matt stick viso effetto opacizzante dice che può essere usato sia prima che dopo il trucco e noi lo proviamo polvere passata c'era in due colori naturale che quel cremo noi o la traslucend aspettate noi abbiamo la traslucend la traslucend se no c'era anche più scura probabilmente hanno scelta in base a uno tipo di pelle skin and co e anche gli elastici potevano essere il multiband in due colori rosso o nero oppure il twins aperto con una pallina colorata ai lati già me li devo studiare poi anche quelle palline colorate ok però in tutto questo c'è uno sconto che però non trovo al codice 15 per cento di sconto sull'iconico matt manoi butter blush di fissian formula a base di burro di murumuru upuaku tukuma e burro di tai tiano monoi con fragante esotiche irresistibili scusatemi solo su amazon quindi è già lo sconto ed è applicato sul sito perché non vedo codici quindi esatto è già applicato comunque ve lo faccio vedere se volete fare lo screen ecco qui e allora a questo punto del video e fatemi sapere quale vien conosciuto di più andrò a studiare per questa fascia per i capelli perché mi piace devo studiarla ed è fatemi sapere se qualche porto vi incuriosisce quale vi è piaciuto di più io come tipo è stata utile e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao